Senza lo Spirito Santo la vita diventa sempre più vuota. La vista interiore si annebbia, la volontà si inceppa, cala vistosamente l'entusiasmo per ogni più piccola iniziativa positiva, si piomba nella disistima rischiando la depressione, si perde il significato di se stessi e della vita. Non possiamo fare a meno dello Spirito Santo e spesso noi lo cacciamo per soddisfare il nostro ego materialista limitandoci alla visuale orizzontale della vita terrena. L'uomo proviene da Dio ed è fatto a sua immagine e somiglianza per cui non può fare a meno di Lui. Lo Spirito Santo ci richiama continuamente questa realtà e ci chiede di poter entrare nella nostra vita quotidiana perché ci ama nonostante siamo fragili peccatori. Davvero non possiamo fare a meno di Lui. L'uomo proviene da Dio ed è fatto a sua immagine e che non può fare a meno di Lui. L'uomo proviene da Dio ed è fatto a sua immagine e che non può fare a meno di Lui. L'uomo proviene da Dio ed è fatto a sua immagine e che non può fare a meno di Lui. L'uomo proviene da Dio ed è fatto a sua immagine e che non può fare a meno di Lui.